Al De Marsi e Derby tra Vezzano e Notaresco, i biancoverdi cercano la prima vittoria casalinga per continuare l'inseguimento a Chieti e Fossombrone. I problemi fisici fermano da Alessandris, Senesi e Roberti, davanti Gio Cortolini. Il Notaresco vuole continuare sulla scena del successo convincente contro il Tivoli. Bruno si affida al peso offensivo di Raniere e Belloni, supportati da Marrancone e Saccomanni. Ancora panchina per Antezza, D'Aloia e Bonfiglio. Recuperato Forcini, anch'esso in panca. Con le immagini di mano il centurame passiamo alla cronaca. Il Notaresco gioca senza timore reverenziale ed è ben messo in campo. Dopo sette minuti Intinacelli è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto entra Forcini che sprinta subito sulla sinistra, propone al centro, velo di Saccomanni, Ranieri colpisce male. Il bomber ha l'occasione per riscattarsi al sedicesimo quando sfrutta alla perfezione un lancio dalle retrovie e con un tocco di punta batte Cultraro per lo 0-1. L'Avezzano prova a prendere in mano la gara. Al ventitresimo il tentativo di Costa Ferreira serve per dare un segnale. Ortolini per posizione di fuorigioco, alla mezz'ora il solito incontenibile Ranieri crea qualche grattacapo alla difesa bianco-verde, ma non è fortunato in un paio di occasioni. L'Avezzano non ci sta ed infiamma il De Marsi con una reazione feroce. Prima l'occasione per Costa Ferreira e poi quella per Ortolini che da due passi non trova la porta, sull'ottimo traversone tagliato di De Silvestro. Al quarantunesimo arriva la svolta. Un ingenuo Marrancone sgambetta Golia, per Chirnoaga e Rigore. Dal dischetto Ortolini è glaciale e batte Curtosi, ristabilendo la parità. La ripresa si apre con il nuovo vantaggio rosso-blu. Di Bartolo dai 30 metri lascia partire un bolide che con l'aiuto del palo non lascia scampo a Cultraro. L'Avezzano prova a reagire, spinto dal pubblico, ma non ci sono vere occasioni. Il notaresco è più pericoloso, al ventinovesimo è Bonfiglio a spaventare Cultraro, direttamente da calcio di punizione. Dopo la mezz'ora accade di tutto. Prima D'Aloia conduce fino al limite dell'area. Serve Bonfiglio che dribble il portiere, ma il salvataggio sulla linea di Pinelli è provvidenziale. Sul capovolgimento di fronte è forte ad avere l'occasione, ma il diagonale si ora il palo lontano. Al trentasettesimo ingenuità di Ortolini, che lascia in dieci i suoi per un colpo proibito e danni di ferri a gioco fermo. L'Avezzano prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo, con una conclusione da distanza siderale. Dall'altra parte Bonfiglio cerca il tocco delizioso, ma Cultraro tiene in vita i suoi. Gli assalti finali non portano gli effetti sperati. Il notaresco sbanca il De Marsi 2 a 1. L'Avezzano resta a secco di vittoria in casa. Gli assalti finali non portano gli effetti sperati.